A rischio l'intera filiera agroalimentare pugliese. L'effetto a catena sui mercati internazionali ha alimentato una spirale molto negativa dalla quale sembra sempre più difficile uscirne fuori. Lo denuncia la CIA della Puglia, l'Associazione degli Agricoltori Italiani, secondo cui alla base c'è un insieme di fattori di natura congiunturale, strutturale, geopolitica e speculativa. L'aumento generalizzato dei prezzi di quasi tutte le materie prime e dei costi energetici, spiega la CIA, sta progressivamente erodendo la redditività delle aziende agricole e il settore agroalimentare non riesce più a ridistribuire gli aumenti lungo tutta la filiera produttiva. Ad essere penalizzati sono soprattutto gli agricoltori. Le forti tensioni speculative, conseguenti anche al conflitto in Ucraina, ma non solo, si riverberano sugli scambi commerciali, già in grande affanno. La repentina ripresa dalla domanda mondiale dopo la prima ondata pandemica e i problemi organizzativi che questa ha determinato nei principali scari di tutto il mondo, hanno comportato gravi rallentamenti delle catene di fornitura globali con aumenti vertiginosi dei costi dei trasporti e dei noli dei container. A ciò si è aggiunta anche la guerra in Ucraina, come detto, che ha un forte impatto diretto sulle filiere ortofrutticole globali. Per questo CIA Puglia chiede di salvaguardare in via prioritaria tutti i prodotti ortofrutticoli, tenendo conto che è un momento storico davvero fondamentale per il futuro dell'agricoltura. Si condivide la necessità di fissare gli importi massimi del sostegno per i ritiri dal mercato e delle quantità massimi prodotti assegnati per Stato membro. I ritiri dovrebbero essere organizzati attraverso le organizzazioni di produttori, per i loro membri e per i singoli coltivatori che desiderano unire le forze con le organizzazioni di produttori. I ritiri dovrebbero anche promuovere la distribuzione gratuita di frutta e verdura trasformata per aumentare l'efficacia dell'intervento, per semplificare la logistica e adottare un approccio etico basato sulla solidarietà. Inoltre, per essere coerenti con l'aumento della spesa per i maggiori costi del programma operativo e per affrontare la difficile situazione per il settore, occorre fornire un sostegno aggiuntivo dell'1% oltre all'importo massimo dell'aiuto finanziario dell'Unione Europea del 4,1% del valore della produzione commercializzata. Ciò è necessario, aggiunge ancora la CIA, per tenere conto dei maggiori costi e delle spese.